Questo progetto è nato quest'anno in realtà, da settembre che affrontiamo gli allenamenti ogni lunedì, è un'attività nuova per l'associazione, siamo qui al campo dell'Alga Etrusca e ogni allenamento cerchiamo di dare il meglio. Atletica in generale sviluppa tutti gli schemi motori di base che sono fondamentali per l'inizio di ogni attività e col divertimento e un pizzico di agonismo credo che questa attività sia fondamentale per loro perché ripaga di ogni sacrificio che loro affrontano ogni anno. Una volta settimana e lunedì, un'ora, dalle 17 alle 18, al campo dell'Alga Etrusca. Grazie infatti per la possibilità di aver intrapreso un altro progetto per la nostra associazione. Ciao, questa esperienza è bellissima, con questi ragazzi siamo divertiti tanto, vero Ale? Importante tanto per i ragazzi perché riescono a divertirsi e riescono comunque a vivere le esperienze che per noi, tra virgolette, sono normali e riescono a essere felici con una cosa che noi facciamo tutti i giorni praticamente, divertendosi alla fine, non seguendo troppe regole. Sono un mentor, sono un istruttore e sì, faccio un sacco di attività insieme a di attività insieme a tutti i ragazzi e poi lavoro anche nella struttura di ragazzi e faccio queste cose da tre anni con questi ragazzi e mi diverto tantissimo. Mi diverto di fatto l'atletica e fatto l'atletica, fatto anche l'atletica e fatto anche il cavallo. Oggi ho fatto un'altra festa, in altre buote e sabato voglio fare una gara a domeniano. Ciao, 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 ciao!